Come riconoscere una sneaker vera da corsa da una feika? Ovviamente la vera è l'Adidas Adios Pro 3 che consente di correre davvero velocemente quella feika ha un'intersuola molto più dura, pesa 50 grammi in più rispetto a quella vera ha una tomaia molto più plasticosa, un battistrada davvero che non tiene un cavolo quella vera è impiegabile, quella finta si piega come se fosse il burro paradossalmente la piattaforma di quella feika è più larga e vi consente di essere più stabili d'altro canto con questa correrete in maniera molto più reattiva, morbida e lamerete fino in fondo peccato che costi 250 euro, quella da 25 euro però non vi consentirà di battere il record del mondo o nel frattempo stay strong keep running, nei prossimi giorni faremo un test completo, ciao!